Lance! Lance, Lance, guarda! Chi c'è? Dove? Oh, che cazzo! Oh, che... Oh, mio Dio! No, Lance! Aspettate! Lasciò la stai avvicinarti, cazzo! Perché stai andando su, Lance? Aspettate! Ehi! Ehi! Che sei? Come mai ti trovi qui? Correte! Correte! Via, via! 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 Vakia! 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 Pegli la luce! Psicopatica del cazzo! L'ho ripresa! L'ho ripresa! Avete visto la faccia? Avete visto che faccia aveva? Questo santo, che sta succedendo? Oh, mio Dio! Perché ci sta succedendo questo? Cigretto! Omerdi! Omerdi! Cigretto! L'abbiamo perso! Omerdi! C'è stato perso io, Stato! Omerdi! Cigretto! Cigretto! Grazie a tutti.